E' un Ateneo che non senza difficoltà e qualche incomprensione ha continuato il complesso e articolato processo di transizione dal vecchio assetto ad una nuova e più moderna organizzazione con un bilancio dal quale emerge con chiarezza la solidità degli equilibri economici e finanziari attraverso i quali poter guardare con fiducia al futuro del nostro Ateneo che all'interno del panorama italiano segnato in questi ultimi anni da un calo delle immatricolazioni ha fatto registrare una sostanziale tenuta con ad oggi più di 6.400 matricole questo il passaggio iniziale del discorso del rettore Carmine Di Ilio che questa mattina Chieti ha inaugurato l'anno accademico dell'università d'annunzio Chieti Pescara parlando di ricerca scientifica e formazione di giovani ricercatori Di Ilio ha ricordato i 3 milioni di euro investiti ai quali vanno aggiunti circa 200 mila euro ottenuti da attività di terza missione al finanziamento degli assegni di ricerca sono stati destinati 2 milioni e mezzo di euro ai quali vanno aggiunti 1 milione 400 mila euro ottenuti dalla regione abruzzo nell'ambito del progetto giovani inoltre 3 milioni e mezzo di euro sono stati messi in bilancio per assistere i 438 studenti iscritti ai corsi del dottorato di ricerca Di Ilio ha poi evidenziato che sono state bandite le procedure concorsuali per il reclutamento di 12 ricercatori a tempo determinato di tipo b che al termine del triennio in caso di valutazione positiva della loro attività scientifica potranno essere assunti come professori associati all'impegno dei nostri giovani ricercatori ha detto ancora Di Ilio va dato il merito di aver prodotto 45 brevetti e dato vita a nuove spin off non è mancata una protesta degli studenti all'esterno del parco del campus gli studenti dell'università d'annunzio hanno diffuso un volantino cerebrazione dell'università nel quale fra l'altro scrivono in questo sistema soprattutto non abbiamo spazio per ragionare insieme non abbiamo tempo per farlo per questo oggi vogliamo raccogliere le idee riguardanti la precarietà caratterizzante il nostro immediato futuro lavorativo ma soprattutto il nostro presente all'inaugurazione dell'anno accademico erano assenti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali grazie a tutti